Cosa ti porta qui oggi? Questa cosa del covo sembra interessante. Meglio indagare, per il bene di Rococo. Come dico sempre, le scorte non sono mai troppe. Grazie della visita. Reveglio! Se solo potessi inventare una nuova pozione, cosa abbiamo qui? Un demigais? Per il prezzo. Un demigino. Se lo scelta. Grazie a tutti.